Sono numerose le segnalazioni giunte alla nostra redazione in questi giorni circa la pericolosità della cappella del cimitero di Castelvecchio Santa Maria Maggiore a Imperia. La struttura infatti è a rischio di crollo ormai da tempo ed è stata puntellata in modo sommario. La zona prospicente è stata cintata con delle bandelle di nastro bianco e rosso ormai logore e le poche e poco visibili indicazioni di pericolo spesso non vengono prese in considerazione da chi transita nella zona e da chi si reca a far visita ai propri defunti nell'antico cimitero. Una situazione insomma potenzialmente molto pericolosa riportata all'attenzione in questi giorni dedicati alla commemorazione dei defunti. La preoccupazione inoltre è incrementata dalle previsioni di forte piogge delle prossime ore che potrebbero ulteriormente compromettere la già scassa stabilità del vecchio edificio abbandonato. Da qui la segnalazione di molti cittadini che chiedono un intervento urgente per la messa in sicurezza della struttura.